La maglia, la maglietta, la maglietta No, di buone, così vabbè No, sennò c'è un bloccio, no, frate Vattene Così? Ma perché te la sei messa in testa la maglietta? La maglietta va addosso Che si, giusto lo fanno i miei posto adesso Sanno al contrario Ma anche a dire che te la sei messa al contrario, te la sei messa in testa Andaccio a te, andaccio Così, sei perso meglio Sì, vabbè, dai, così, sì Parla, parla Ma che devo dire? Che lo che ti fa, vabbè Ma and'affanculo che ti fa, vai No, no No, no, sei timido Sei timido Vabbè, bello mio, allora ti mando un saluto, dai No, ciao, chichi Ciao, ciao Qua la c'è te fa la fila Un'ora e mezza Sì, appunto Beh, fa se quadrati Io sai le parole a scicchette dice Hanno tolto lo scioglierebano Hanno tolto lo scioglierebano Hanno tolto lo scioglierebano Hanno tolto lo scioglierebano Hanno appena tolto lo scioglierebano Oh, che è passata la mezzanotte Aspetta, aspetta Spiegatemi sta posta che bordi Siamo liberi Mo siamo in classifica Siamo? Siamo un classifica Ma perché c'è stavamo prima? No, siamo un saluto banno Era tutta la gente che ha eseguato Ma ti chiamati, c'è che cazzo a cazzo tu dice Siamo quinti Ma no, moriamo primi con Pannamo Oh, regà, condividere sta cazzo di diretta che adesso faccio il pa... Oh, ma qua mi stanno a far panico Mi stanno a creare la roba sulla Playstation Qua me stanno a creare tutti i account di email mia Regà, ma che c'è in cazzo a parte Mi stanno a creare tutti i account di sannari a tutti i mail Oh, non tocca a niente con il telefono che fa i miei danni No, ho messo offline proprio Ho buttato là, ho buttato Vai, vai, fa tra... Ma non dico, fa tra la certa È sempre i soldi ci sono Oh, chi è? Contivideli, contivideli, contivideli là È lì, è lì, è bravo, dai Oh, tocca a cazzo Qua dicono ti mette Dodo Però Dodo non c'è niente Chiamai Dodo, chiamai Dodo Sì, si chiama Dodo, porco, lo faccio nero, lo faccio Ma un bravo ragazzetto Un bravo ragazzetto Un bravo ragazzetto Un bravo ragazzetto, sì, sì Un bravo ragazzetto, da te, è piccolo Un bravo ragazzo Vai Vabbè, sì, qua stanno a tutti tutti che ti pompi i muscoli qua stanno a tutti, eh Io mi pompavo la cappella, frate Quello sì Sai che hai i capelli inventiti sui beni Oh, guarda che Natale è finito Siamo avrile, siamo, siamo a maggio, siamo Aspetta, 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 aspetta Fate la sorpresa La nuova hit del 2020 Attenzione Ma che si è affettato? Tipo una limusina Uno di quei Di Puglie Purman Oh Ma andò sta? Dai, il tuo balletto non c'è Ballate con me E, e, spinguino Piedino Saltino Avanti, avanti, avanti Oh Che sei andato a fare? A portare il sonno Sei andato a te, mi ha fatto niente da dormire, oh Buonasera, fratellità, va tra nascere, guarda che Ciao, ciao Bella, fratello Bello, bello Fia, cazzo Fia Ce senti? Oh, ecco Ce senti? Ma che c'ha la maglietta farsa da su prima, c'è scritto Superman Ma stai zitto Ma te sta tutta farsa Ma fermate Ma dove stai zitto? Sei innamorata anche Lo so, è da prima Sei innamorata Questa è da ieri che mi sta a scrivere i messaggi Posso fare una domanda a 17-27 No, anche voi da me, mica sul portiere io A che? Ma a quanti anni mi hai soccato di capelli? A quanti anni? Sono nato così, io non ce l'amavo di capelli Come collina Vabbè dai, c'è bello qua Mamma mia Senti, prima che attacchiamo, possiamo fare lo screen Che vuoi fare? Ce la fanno una screen Ce la fanno una screen No, Ger? La foto sono 10 euro Eh, tua zia sono 10 euro Ok Dai, a posto Ehi, 10 euro Ciao Ciao Ci sentiamo dopo, 17-27 Ma è bella nata, ne mi scrive più E dai, io Non serò così però E' appunto A me l'uovo di Pasco ancora me l'hanno aperto Eccoci Ecco Questa si chiama Davide il boss Cioè adesso c'è proprio un coraggio Che coraggio che c'è A posto Minchia A Brasì Madonna Ma non c'è entrata in questa fotocamera Ah, fratelli, mi sono messo pure te spiego Ah, vada a vincere Te va da piatto il cugino Aspetta un attimo Arrivo Aspè, va Comunque, saluti d'Apriglia Bella, fratelli, saluti d'Apriglia Salute Che è stata a fa' Che stiamo a fa' Fai delle esatte cose Minchia, una settimana cerco di entrare Oh, meno male Stasera pure col Brasile Dai, eh Eh? La pietralata Bitch Ma è dannato quell'altro matto Che cazzo ne sto a farsi una pipa Ma è dannato Ecco me Eccolo Aspetta, aspetta Ma fammi capire una cosa Ma dentro lo sei tagliato proprio il lobo Sì, sì, sì Allora, rimani così Allora, rimani così Fermo Le faccio un ritratto Vai, vedemo Ma che sta a fa' Io ho capito che cazzo sta a creare Ma che ne so È un matto Comunque Mi stavi a far sentire male con tuo padre l'altro giorno il video Ma che sia matto Non hai visto del video che ha fatto col padre Ah, sì, sì Ai carabinieri Cazzo il padre Il padre è arrivato più bestemmie che Mi ha fatto il mio raggio Ha tirato un giro Ma vantite che vuoi Oh, mia, faccio più all'angelo con questo Senta attento Ma vantite che mi vergogno Sono impegnato a fare un attimo e ritratto Ma che c'hai da fare? Ma che c'hai da fare? Mi so fare un ritratto L'hanno fermato A David del Bo Ah, mi hanno ritirato una denuncia Mi hanno ritirato Ah, buono male Ah, ah, hai visto? Pure fortunato Io calcola adesso a fare un ritratto e ti dico fermate Se lo vuoi, se lo vuoi, io te lo spedisco Sì, capirei, mi chiedi 6.000 euro La piotte e mezzo No, mi tocca 6.000 euro un esso Mi tocca far bonifico La piotte e mezzo, fratelli 6.000 euro, vai È un esso Ah, sa che te che dici che stai sempre là, fai finta di niente, fai inosservato Eh, faccio l'altro Pago il culo ad Algema Che fai? Ma che po' parlato? No, io lo dai il culo Mi fai a vedere, oh Abbasì, ma che c'è? Dai, oh Mi serve a lavorare una volta, Abbasì Vedo che sta sbagliando O dammi una botta, eh? No, no O dammi una botta O tocca a nasa a fare un litro di caffè, oh Sì, no, madonna Algema, mi spieghi una cosa Ma del pitbull Oddio, il naso mi pare più il tuo di naso quello, bro Oh, guardami, però cazzo mia, te ce lo subito po', cazzo mia Davide Con sti capelli mi pare un uovo pure io, oh, ma c'hai ragione È un uovo ribartato Oddio, sto naso mi pare più il tuo, bro Allora, questo se volete, è il nostro amico Davide il boss, 6.000 euro Se lo vendita sui beni dopo, ah Se lo vendi però a metà Ah, fammo metà, eh Stecca parra, te lo dico Stecca parra, vado lì, qui, tu e qui, devi fa la fila, pesà Stecca parra, pesà, che manco un terzo ti arriva lì Dai, stecca parra per quattro, dividiamo per quattro Sì, sei proprio l'ultima ruota del carro, capito come Proprio quella che non vale in cazzo Stiamo dietro, dietro, dietro Vabbè, mo' ne esagerà, però, eh Però te posso, ma non scataro per possa Che ne pensi? Ma se fa una cagata via e-mail Una cagata via e-mail Dai, te posso fa, te posso fa una foto Vabbè Una foto Sì Ok Dai Bello, Davidì, ti ho fatto sto ritratto Bella, regà Dopo scrive Eh Money, eh Tu tienitelo Money, sì, sì Avanti un altro E li va Ciao Buonasera Buonasera Che timido, ciao Tutto bene? Che dice lì? Tutto a posto, voi com'è stata? Tutto bene lì Se sta preparando su tante, aspetta Se sta squadrando prima No, lo so, sì, sì, lo so se va Sta cercando il punto da figlio Fare un po', fare un po', fare un po' e riporto Te ho scritto Ora sai che ce l'avevo scritto Uncchialimo, basta vai Che hai detto, che hai detto? In realtà ho scritto tutti e due Sia sai che Quando è successa quella cosa dell'account Sia 1727 Ma a me, fratello? Te no, però ti seguo sempre Questo sì Dai, dai Sì, sì Avevo tre domande da farti Vai Ma prima è al Brasile Che è, oh Cos'è? Da Toscana dico, tutti quanti Catania Catania? No, no, è un po' più in basso Ok, ma qualcos'è, dopo Europa Vai Al Brasile io volevo chiedere Cosa è successo, cosa gli ha fatto cambiare idea Più che altro Cioè, da quando, come è iniziata questa collaborazione Con 727 appunto Te dica la verità Quando è iniziata, è iniziata Io sono un ragazzo molto sincero A parte, a parte Pensavo che comunque C'è, ci poteva essere un minimo di collaborazione Poi È un bravo ragazzetta alla fine E poi te dica la verità E' seguito da morire Quindi Questo c'è una vaga somiglianza a questo pappagalletto Non so perché Oh, guarda che taso Oh Ma il pappagallo, frate Il pappagallo di appunto Dell'equator, mi pari Oh, almeno questo è il diritto Quello 7 Mamma mia Meglio una viccia Lo capicciolo così Oh Ah, finchia Non lo so Vabbè, dai Ci ha provato È importante È provarci L'altra domanda Era un po' la stessa Ma per sé che è Cioè, in realtà Qual era la storia di fondo Perché Quando Quando L'ha iniziata a prendere al culo Quello io le devo andare Esatto Ma ha iniziato questo amore Purtroppo è stato sottomizzato All'infanzia Devo dire che Sì Ve l'ha raccontato Ci ha preso Vabbè, sì Ci ha preso veramente Se no, amico Uscivo così Con me Algero si confida Con i Whatsapp Audio E mi ha detto Che un giorno è stato Sottomizzato Non posso dire da chi Ovviamente È stato penetrato Per due o tre ore Che po' Da lì Ha risposto più all'alculo Però vabbè E poi ha cominciato A cercare A cercare Chi potesse accontentare Che sai che è Da una cosa passiana Che poi da l'ho cominciato A cercare Chi mi potesse accontentare Perché comunque Cerchi sempre di più Un te bassa mai Fino a quando poi Ho conosciuto Il brasiliano Da lì ne ho smesso più Da lì Certo Ogni mattina Mi svevo Facciamo così Vediamo se vediamo Se mi manchi Mi manchi Mi dice sempre Se è più bello Che ieri Oggi stai in forma Sei più bui doloso Ah ok Poi mi dice che le donne Le tratto male Capito Io non c'ho parole Va bene Fatemi un saluto L'ultima domanda Va bene Belli Ah va bene L'ultimo Va bene Dai Ci vediamo Ciao Ciao Mi fa andrà il Dodo Che il Dodo Lo vuole andare E' andato via Eh dodo non c'è Eh dodo non c'è No è andato via Da una dolce È andato via E' andato via fondamentale il discorso questo discorso su qui c'è fondamentale la compattezza e la dura a me piaceva questa piattaforma cioè di salmon 3 chiacchieramo entra gente che che vuoi di più c'è sciallissimo mamma mia cp è entrato due siete fratelli una donna e una l'uomo se non è meglio il sancurato è stato il gemello si da dove da dove siamo calabresi ma abitiamo a rim a rim a rim a rim a cosenza cos'è mi fate morire queste dirette o ieri sto crepato bella bella poi tutto a posto tutto bene però l'insulto la voglio insurdo allora molto insurta ciano valce ma io a questo non mi viene da insurta allo perché questa è da inizio quarentena si ci ha pensato ai da poi da inizio quarantena che vedo che inseravano si fa il conto te dico fermate c'hai la cera sui capelli o c'hai la cera ma te sei proprio uno che te che te sei messo è il burro che è ferma dio sei tutto il burro di testa l'altro è peggio di me ora dovremmo fare un format con come il tipo di persone come lui quando più si fanno insultare e più godono però bisogna che ci pagate è vero mi piace il suo format insultati da brasile 172 niente se bloccato tipo carci in culo capito queste cose quale sei 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 tipo quelle che si vanno a piaccarci sulle palle si 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 e strizza palle che ha fatto il capo ritattori si è andato che ha fatto questa matto scatta o per ben un salernato quasi c'è una bella veduta ti dedica la verità perché non mi sento che non so si è andato come rimasto così non c'era un pallato il telefono era proprio lui era no stava così non c'era un pallato il telefono ragazzo ci seguono dal cellulare che passa diretta e giustamente cercano di entrare da un pappagallo se può un pappagallo ripeti che i ripetitori dentro casa capito a questo video di appare che ha sento vivo di ma anche io voglio ma come un bel ragazzetta una bella ragazzetta assomiglia la madre più che il padre ragazzetta assomiglia la madre più che il padre più che il padre più che il padre più che l'hanno sa quanto rimorchiava 17 anni amica c'ho questa faccia da cazzo questo è il fatto che devo rimorchia attenti rimorchiamo anche il furgo ma anche il camion dei rimorchi a teo fermo a teo eppure eppure fa per forma a tal genere fa per forma si questo è soltanto c'è niente certo comunque c'è vabbè il basiliano come si ha visto tutti i video possibili su youtube alzare le mani alzare le mani alzare le mani alzare le mani e aprire le gambe certo così alzare le mani no io ho detto a lui di alzare le mani e di aprire le gambe erano invito da dove chiami o pierna cina bello se mangia pure per gli fratelli mi dicevo a me al giro che per i modai che c'hai il villone il villone al villone io vengo con mia moglie ma ti metto dentro casa che problema c'è c'era una stanza c'è c'è due case dentro il giardino mio al cielo al cielo mi fanno dato un botto lo mettiamo in finestra 7 8 grammi che faccio da due o tre fiorne se lo metto volete al barcone così siamo a guardia a guardia della villa che fanno qua io sì voglio stare fuori voglio stare voglio mettere sul zerbino ma questo il zerbino c'è la testa mi devo mettere sulla testa sua poi ma questi capelli comunque non vi regolate ti abbiamo insultato parecchio o ti dobbiamo ancora insultare di più va bene così no vabbè un saluto magari o puoi essere ancora più insultato no vabbè un saluto qui se scherza eh frate lo sai che scherzavo bella bella ciao ciao oh se tu conosci un autore non sto a scherzare c'è là un autore c'è là un autore c'è là oh ma ti giuro io ci ho messo uno che tipo sti produttori ste cose oh non so scherzare qui fanno tipo una messa cosa del genere o non hai capito che mo le facce nostre fanno audience ma certo come come sui social a noi ci mettono in televisione lo sai che fanno fratelli o gli fanno più o spopolamo no ma per forza per forza sto carriando il buio sto carriando il buio perciò contattiamo un autore contattiamo un autore famo una messa a trasmissione il format se lo inventiamo il format è questo qui è il format per forza e non c'è non c'è stai guarda male aspetta eh che vedo comunque ti stai divertendo io? si ma come ho messo a divertire ho diretto lo special guest special guest è un basiliano proviamo con Dodo per la terza volta buah buah